Cose che succedono solo qui all'Aquila, spero, ma non credo. Dopo cinque anni si sono state le elezioni comunali, voi direte, e che ci frega a noi, questo è un canale di fumetti? Eh beh, ha rivinto lo stesso sindaco che non fece venire qui a gratis, Zero Calcare e Roberto Saviano, a presenziare al Festival degli Incontri. Il sindaco chiese un bilanciamento politico alla presenza dei due, completamente gratuita, e è stato rieletto. Lui cinque anni fa stava in casa Pound, poi è saltato in Fratelli d'Italia, ha vinto le elezioni a sorpresa e quest'anno ha preso una marea di voti. Siamo quello che ci meritiamo. Ho detto tutto.